Ciao ragazzi, un piccolo video per mostrarvi due prodotti che sono nel cassetto e non ho ancora usato Sto parlando di due fondotinta Uno di Filorga e uno di Darfin Darfen, non ricordo come si pronunci Praticamente li ho comprati e non ho ancora usati E allora, uno è Nude Ivory di Filorga 30ml con un pao di 12 mesi Il Darfen è sempre Ivory con un pao di 24 Tutte e due 30ml Quale vi può interessare che usiamo insieme? Questo era praticamente lo scopo del video Di usarli, di aprirne almeno uno E di usarlo magari con voi se vi fa piacere Quale, vorreste sapere come funziona, come mi trovo Il colore più o meno dovrebbe essere quello, si spera O al limite se volete Non so che faccio mezzo viso con uno E mezzo viso mezzo lato con l'altro E niente, fatemi sapere Così appunto li apro Anche se non sono altri aperti Praticamente li ho aperti tutti All'infuori di questi due Che poi si, anche su prato il pao Cioè non ci sono problemi Però è un prodotto liquido magari Anche per quello che non l'ho voluto aprire Ma sono tutti e due Due prodotti Sì da farmacia Anche se io avevo preso entrambi Se non ricordo male su notino Se non ricordo male Sarebbe anche l'ora che li iniziasse a usare E niente, anche se ho appena iniziato quello di Tarte Come, sì, penso che avrete visto Che avrò pubblicato prima Allora fatemi sapere quale opzione vi interessa Uno o uno o tutti e due Un lato, uno e un lato l'altro Con questo vi saluto E aspetto di sapere La maggioranza vince, eh Ve lo ricordo Ciao